Mia cara, la guerra si è presa l'amico più caro che avevo. Era un fratello per me e la sua morte mi ha colpito più di quanto immaginassi. Una buona notizia, finalmente Karl è lontano dalle trincee e le sue condizioni sono migliorate. Andrò a trovarlo al prossimo permesso. Cosa mi dici di voi? Come state? Le cose migliorano almeno a Saint-Michel? Karl aveva scoperto che le cose volgevano al peggio. Nella sua ultima lettera Marie diceva che il figlio era gravemente malato. Karl aveva ormai preso una decisione. La guerra non sarebbe mai finita, doveva fuggire. Hei! Hei!